Ciao viaggiatori! Siamo chiamati in questo momento a manifestare tutta la nostra bellezza attraverso l'espansione del cuore, attraverso l'espansione di coscienza, attraverso la manifestazione dei nostri talenti, dei nostri doni, ma soprattutto attraverso le nostre gesta e le nostre parole. Ci viene chiesta fermezza, solidità, giustezza, ci viene chiesta consapevolezza, ci viene chiesta verità e dobbiamo davvero manifestare tutta la nostra verità attraverso l'apertura del cuore. Dobbiamo essere totalmente centrati e consapevoli che non possiamo assistere passivamente a questo cambiamento che è in atto perché ognuno di noi deve assumersi la responsabilità che è parte proprio del cambiamento stesso, perché tutti noi assieme possiamo davvero far cambiare le cose. E per farlo dobbiamo divenirne consapevoli, ma soprattutto dobbiamo avere quella consapevolezza, dobbiamo avere quella forza e quella lucidità, dobbiamo essere totalmente allineati con la sorgente della vita e fare esattamente tutto ciò che la vita ci chiede di fare, manifestando la nostra verità, manifestando se stessi e portando quello per cui ognuno di noi è giunto fin qua. Ciao viaggiatori!